Grazie a tutti. 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 Buono, buono, buono ragazzi, va bene, dai Edo, va bene, Edo, bel lavoro. Buono Raffa, buono Ceru, difesa, Vladino. Straccio,lei Vieni dietro straccio Vieni qua tranquillo C'è già il 10 profondo Ok buono li vuoi In avanzamento Non puoi stare più largo Aspetta straccio non andare troppo Staccio Lega Via Vai troppo alto Ok vai sali Spingi spingi Andre Vai difesa sali Jack È tuo Jack È nostro vai Stai sentendo un po' d'acqua Siamo al campo Bene va bene Dai va bene Va bene Mi sono indeciso Poi Non si spingono fuori Bella buona ragazzi Stiamo così Stai schiera Dalla quando vuoi Già pronto a saprare Già pronto Marti Già pronto Marti Già pronto Marti Già pronto Marti Aspetta guarda Aspetta guarda il flusso della palla Ok vai Spingi sugli ampi Guarda 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 C'è la situazione Stai Stai Spingi Sì 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 10 minuti in linea Rafa Comanda la linea Grazie a tutti. 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 Andiamo a 10. Grazie a tutti. 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 Acqua e... Grazie a tutti. 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 Gioca, 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 diamo il sostegno subito, subito. Andiamo, andiamo, andiamo con lui, veloce. Diamo Nipo, diamo Nipo. Avanza, avanza, avanza. Gioca, gioca. Bene, bene, bene. Buona, molto bene, andiamo. Dai, mischia, Giulio, bene. Ma è buona, lasciala giocare. Ma, sono stato tre centimetri sotto. O no? Stiamo a giocare, sto un po' a perno a giocare. Ma no. Sti fiscalisti, quando devono fiscare, da loro non fiscano. Massini, lega, via. Lotti, ci, su. Occupa lo spazio, la difesa. Gioca, lo andiamo avanti. Sali, sali, sali. Giuga, 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 giuga. Giuga, giuga, giuga. Sia, scena. Trova la linea, Marcello. Lavora, lavora con la linea. Sia, scena. Vai, vado. Vai, vado. Vai, vado. Vai, vado. Sia, salta. Non vado a salire. Non vado a rispettire. Mastracci! Vai André! Andiamo! Largo Jack! Largo Jack! Qui per l'aspetto Jack! E' il pallone! Guardate dai! Chi era più decisa la palla! Occupazione! Allarga! Allarga Andrea! Allarga! Allarga! Veloce! Veloce! Comandare la riflessiva! Chi era meno! Giudo! Giulio! Occupo largo! Chiudere! Guarda Mastri! 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 Sostegno Gere, polizia! Basso! Sostegno Gere, polizia, 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 polizia! Ma perché introduci di qua? Sandri! Perché introduci di qua? Perché introduci a destra? Soste devo dire, quando gli grida l'arbitro che non posa un'altra destra, sono d'accordo con te ma non so perché trovi da questo lato. Ma cos'è una nuova moda di qui? Giù! 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 Vai Giù! Vai Giù! Vai Giù! Ah non buttiamo la Gioele! Occhio! Ma c'è la nostra oltre! Giù! 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 Bene va bene dai coordinati! Allora! Adesso! Bene! Buona pranzi! Bene Gioele! Bene adesso! Bravo! Chiamami Diego! 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 Ma è una moda di Recco di introdurre la palla a destra! Noi è la moda degli alli che non so parlare esatto! No! No! La regola dice che puoi introdurre tutte e due parti! Come no? Si! A questo livello! Non c'è una regola che dice che sei obbligato a introdurre! No! E' che a destra è più difficile perché non hai più un canale! No! No! Noi introduciamo come fanno tutto il mondo! E come mai questo è introdotto a destra? Eh? E come mai qua è introdotto a destra? Noi abbiamo fatto una mischia negli ultimi sette mesi credo col centro di formazione! Vabbè ma giocherà questo nel club no? Quello dell'Imperia! Eh? Si vede che hanno il destro di voi! Si vede che hanno il destro fortissimo! E' giallo adesso! Si vede che hanno il destro fortissimo all'Imperia! Lega! Via! Non si muorono tanti! Noi muottiamo noi! Ah il cuore! Cosa ti dà? Eh... Ah! Vado a ruotare! Oh signore ti va a ruotare! Rosso! Ti metto la scinta dritta! Beh! Di metterlo dritta! Occhio, straccio! Sposta gli altri, sposta gli altri! Cambio! Sarebbe il giallo, però è un protaggio. Il giallo è dentro! Pronti, 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 dai, ragazzi, occhio! Stai a casa, non hai capito tu! Difesa subito! Stai a casa, non hai capito! Stai a casa, non hai capito! Stai a casa, non hai capito! E non hai capito! O faccio il medico, o faccio il medico, o faccio il medico. Vai dal ginecologo! Vai dal ginecologo! Dio! Grazie a tutti. 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 . 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 Lavorarci. Nel 2002. Nel 2002. Nel 2002. Nel 2002. Nel 2002. Johanга. Nel 2002 c'è poi? Nel 2001��. C'è pochi. C'è pochi. No stringere. Jack. fermerò il 봤ore. cerchi la mano cerchi la mano alzato ci andiamo giochiamo andrei fiducia giochiamo piedi edu perchè va nell'asse quello lì ma che piede principio del gioco si gioca tempo? 5 ecco non hanno lavorato male non hanno lavorato solo un po' di cose non hanno lavorato sempre insieme non sono mai insieme tutti e 23 no 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 dai vogliamo far metà uno su uno questo è calcio dai balco dai balco dai balco dai linea 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 non dietro al punto raffaele salgo sali 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 che si dava a palla a uova per i malo scuote regalo stracci uno dietro uno dietro uno dietro ormai sono morti dai una mano dietro si è rotto tutto beh ha fatto un tanto tanto minutaggio la sciacca la caggia a ritardo se non caggia tempo che cosa questa cosa stiamo parlando dai edu 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 ma già gli batto una spalla prima di serebbe entrato dentro facendogli una ice sul corpo Poi non lottano per metterci il polizio. Guarda che Raffaele deve essere lì per terra. Torizzo, guarda che c'è Raffaele a terra forse. Raffaele, come va? Raffaele, come dieci nuove e sai in linea. Ovviamente non devi far profondire. Ora, bravo, dai una mano di estremo. Giulio, guarda avanti, Giulio. Vai ad aiutare, cerro. Non è che ho usato il piede. Grande balestra. Dai, dai, dai ritmo, ritmo, ritmo. Il problema è il nostro fisico. Geno, Geno, compi a mettermi all'interno. Non c'è l'estremo, Geru. Sto a usare il piede così. Vai dietro! Non c'è dietro! Oh, Diego! Devo toccare subito fuori. La transizione la devono capire. Devo toccare subito lì. spazi allargati dove non c'è la difesa, c'è un corso d'aggiornamento non è di sua attrazione ma come via di mani? torna Ludo torna! la di giochiamo, non a piede! lui era uno dei pochi che erano nel centro da imperiale ma che cazzo sta fischiando? ma è in piedi, gli dice lasciala mettere indietro e quando fa a terra gli dice che spingono nella terra ma che cosa sta fischiando? si dà calcio anche dentro l'area di meta non erano 10 metri ha ragione giocare in calcio continuo di calcio pesante e che cazzo vuoi? quanto vuole giocare? pensa che fa due tempi da 40 bel torno perso vedi anche qui? vedi anche qui? ma con calma che problema c'è? qua ah no pul Jeremy pulo! 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 yuru! pulo! 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 Grazie.